Ciao a BetTest.it, torrido, orrido, disgustoso, respingente, sexy, sono impazzito per The Bad Batch ma già mi aveva fatto impazzire questa ragazzaccia iraniana svezzata negli Stati Uniti d'America al secolo, Ana Lili Amirpur, è chiaro che Ana è fuori di testa ed è chiaro che Ana è un'iraniana che non è mai stata in Iran e quindi è chiaro che Ana non sa bene in quale tipo di terra di nessuno si trovi a livello esistenziale. Questo è l'anima di un film che è tutto corpo, bellissimo, ma dove se poi si va un attimo a capire da dove viene la folle regista, la talentuosissima regista iraniana svezzata però negli Stati Uniti che l'ha diretto capisci che queste terre di nessuno dove già era ambientato il bellissimo A Girl Walks Home Alone at Night, si parlava di vampiri lì, ama creare queste città che non esistono, ama creare queste terre di nessuno, la nostra amica Ana perché? Perché lei stessa appunto si trova a livello esistenziale probabilmente in una terra di nessuno chissà i demoni che c'ha nella testa Ana. Ma il film è anche, ed è incredibile perché si parla di cannibalismo e di atroci crudeltà, il film è anche molto divertente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di concorso! 73esima edizione della mostra del Cine di Venezia, sì, questo è un altro dei miei favoriti per la vittoria finale uno dei miei beniamini insieme all'alieno dai gusti sessuali particolari di Escalante la Recon Salvaje, c'è una regione selvaggia anche in The Bad Batch, questa terra di nessuno tra Texas e Messico in cui si trova la nostra eroina e subito incontrerà una tribù di cannibali che insomma non è proprio ben intenzionata nei suoi confronti. A questo punto parte un film che è Mad Max che è per un pugno di dollari ma d'altronde George Miller aveva preso da Sergio Leone e quindi lei diventerà claudicante come il Mad Max di Mel Gibson che abbiamo visto fuori concorso bravissimo Mel con un film di guerra, Oaks of Ridge qui in questa terra di nessuno la ragazza si troverà tra una comunità dei cannibali e l'incredibile città di Comfort gestita da un Kino Reeves in versione Pablo Escobar allora la scelta è vuoi entrare in un harem o vuoi entrare in un mattatoio praticamente con Jason Momoa? Allora se Ana avesse diretto Conan con Jason ma cosa sarebbe venuto fuori invece di Marcus Nispel? E ho ritrovato il Jason Momoa che ho amato alla follia nella prima stagione di Trono di Spade nel ruolo di Khal Drogo. È tornato quel Jason lì, Aquaman ce la faremo a vederlo così, ma quanto è carismatico, ma quanto è intrigante, ma quanto è irriesestibilmente sessuale e sensuale Jason Momoa in questo film. Tanto che nonostante non sia proprio un bravo ragazzo e magari gli piaccia pure magnasse un pezzo di noi, lei la nostra eroina comincerà come un po' comincerà a sentire una strana attrazione nei suoi confronti. Ma è giusto? Ma è sbagliato? Ma qual è il giusto e qual è il sbagliato? Allora a certo punto Ana, è chiaro, ci porta nella sua mente apolide, ci porta nella sua anima senza stato, senza regione e questo diventa una grandissima metafora, penso, della situazione in cui si trova questa giovane, bravissima regista iraniana svezzata negli Stati Uniti d'America. Poi c'è un Jim Carrey dalle parti del Bruce Spence di Interceptor, il guerriero della strada, non aggiungo altro, e poi c'è la città di Comfort che ricorda la città guidata da Pappagallo, ve lo ricordate, sempre in Interceptor, il guerriero della strada. Quindi c'è tantissimo Mad Max, c'è tantissimo George Miller, c'è il deserto, c'è il fuoco usato registicamente dandoci veramente la sensazione del caldo torrido, c'è Sergio Leone, c'è anche un personaggio che dice I want spaghetti! A un certo punto, quindi ringraziamo la meravigliosa Ana Lili Amirpour per averci regalato uno spaghetti horror cannibal, holocaust, Mad Max, The Bad Batch, io penso che sentiremo molto parlare di Ana in futuro, magari proprio a partire dal palmareste di questa mostra. Uno dei miei film preferiti, The Bad Batch, Jason, Momoa e un Kimo X, wow! Ciao Bethesda!